ciao fragoline nuovo video un video un po diverso mai fatto sul canale e questa volta ho deciso veramente di farlo perché ho ricevuto un bel po di commenti anche un po brutti sotto i miei video per cui rispondo anch'io ai commenti degli haters sono abbastanza ovviamente i commenti non sono privati ma sono pubblici che li vedete anche voi su sul mio canale sotto i miei video dato che c'è il nome si vede il nome si vede quello che voi commentate sotto i miei video giustamente non sono privati posso ovviamente fare questo video e farvi vedere i commenti che mi lasciano le persone che neanche di sicuro mi seguono sul mio canale per cui commentano ma non conoscendomi e tanto meno non mi seguono sul mio canale giustamente mi scrivono cose che sono cose assurde che io ogni volta resto a bocca aperta e rimango basita comunque detto questo prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina lasciarmi like se vi piace questa tipologia ne farò altri i commenti sono tantini per cui adesso le leggiamo e se volete seguirmi su instagram vi aspetto anche lì dato che sono un bel po' io ce l'ho sul computer perché li ho trasferiti tutti al computer adesso li leggiamo tutti e a fine video vorrei dirvi una cosa un po' importante che non si tratta di un commento si tratta di un email anche se le mail è privata io vorrei chiarire questa cosa perché sinceramente quando ho ricevuto queste mail sono rimasta sono rimasta proprio male per avere ricevuto questa email iniziamo allora dai nomi non so se femmina non so che se maschio per però andiamo al sodo vi faccio vedere vi lascio qua le foto lo screen e vi faccio vedere il commento allora questa scrive no ma veramente ci sono questi video cosa c'è scritto sotto il gratta e vinci questo gioco nuoce alla salute può causare dipendenza patologica e allora sono abilita è istigazione del gioco che vergogna questo il primo commento che ho ricevuto sotto un video dei gratta e vinci questa persona di sicuro non mi segue di sicuro perché non ha visto solo questo video dei gratta e vinci precisiamo una cosa lo so che i gratta e vinci non fanno bene preciso anche che io compro gratta e vinci un euro due euro una volta al mese solo per fare un video che piace a quelli che mi seguono veramente scusate ma in questi commenti veramente mi fanno arrabbiare perché c'è ok che non devo dare spiegazione a questi qua che neanche inseguono e neanche sono iscritti al mio canale ma vorrei chiarire queste cose prima di tutto non spendo 10 20 euro 50 euro per un gratta e vinci o tantomeno non vado a spendere 10 euro 5 euro tutti i giorni primo ma ripeto spendo soldi un euro due euro massimo massimo 5 euro come avevo detto nei video di gratta e vinci massimo che lo faccio solo una volta prendo due gratta e vinci al mese massimo spendo massimo 5 euro non di più per cui ricevere questo commento che mi ha fatto girare le scatole su quello che ha scritto sinceramente sono rimasta io basita perché c'è se non mi segui che cavolo scrivi questo commento fare io non lo so passiamo avanti perché sanno mi delungo e poi va a finire che li mando a quel paese scusate la lo sfogo ma è così è quello che penso io e spero che pensate anche voi così poi certe volte leggo dei commenti come come questo ad esempio pov che non so cosa vuol dire non sai l'italiano ogni tanto diciamo che ricevo questi commenti qua allora io so l'italiano sbaglio tante volte nei video perché prima di tutto sono una ragazza timida sono una ragazza che quando fai video si agita molto e sbaglia a parlare per cui quando tu parli veloce ovviamente sbagli a parlare sbagli tutto è normale ma io mi domando ma voi dovete vedere come parla la persona oppure i video e quello che fa e l'impegno che ci mette cioè non lo so questa cosa sinceramente non anche perché quando vado a vedere una persona straniera che praticamente ha una video in mezzo con la sua lingua e l'italiano che parla veramente male a quella persona non solo perché straniera i commenti sono tutti positivi dice che brava quella su giù invece quando sono io solo perché sono italiano allora ovviamente sotto devo leggere commenti del genere con scritto non sai italiano c'è gente anche che non sa scrivere commenti per farvi capire per cui non riesco sinceramente non riesco a capire che problemi avete solo perché una non sa parlare l'italiano oppure sbaglia boh andiamo avanti poi un altro commento sulla lavatrice di una ragazza mi scrive le tovaglie e gli asciugamani a 30 con liquido o senza ossigeno attivo avete pure il coraggio di farvi video no comment spiegatemi voi cosa vuol dire questo commento perché io sinceramente non ho capito niente allora sinceramente le cose che lavo io in lavatrice sono cavoli miei come li lavo 30 40 50 90 gradi sono cavoli miei non riesco a capire che problema si fa questa ragazza perché vede solo che io lavo le tovaglie o gli asciugamani a 30 gradi cioè io l'ho sempre lavati non ho mai avuto problemi non ho capito perché dovete dirmi voi come lavare i vestiti non lo so vabbè comunque vi lascio a voi questo commento scrivetemi sotto che cosa vuol dire perché sinceramente non ho capito questa domanda qua però andiamo avanti poi relego questo commento lascia un po in pace quei capelli se ti dà fastidio che io mi tocco i capelli no perché guardi il video che fastidio ti do cioè non vuoi guardare il mio video non guardarlo ma che cavolo te ne frega a te se io mi tocco i capelli se io faccio così cioè io mi tocco i capelli perché certe volte mi danno fastidio giustamente a me non mi piace diciamo fammi la coda allora li lascio lunghi ma se faccio così è perché sono nervosa e ovviamente mi ritocco ma che poi non ho capito perché devo dare spiegazione a delle persone solo perché io c'è non non ti piace che tocco i capelli vai a un'altra parte va in un altro canale c'è non so perché perché questo commento cioè a me mi viene da ridere ricevere questi commenti boh poi ricevo un altro commento ciao cara molte scarpe sembrano più grandi del tuo numero come mai allora io questo momento lo voglio mettere perché mi ha dato un fastidio in senso che devo pure dare una spiegazione perché io compro delle scarpe col numero più grande c'è in senso chi non compra come me delle scarpe col numero un po più grande sapendo che dopo due tre giorni tipo cresce nel piede cioè non so perché devo dare questa spiegazione vabbè io ormai gli ho risposto l'olio l'ho scritto però ovviamente poi continuano a scrivere sotto questo commento c'è se io compro ad esempio io da piccola a 21 anni avevo un numero di 37 giusto facevo 37 38 poi con gli anni il piede cresce non è che ti resta così terribilice il piede per cui cioè è come è come la maglietta è come se io all'inizio portavo una m adesso porto una itzelle cioè è come se se tu mi dici e ma perché preso una maglietta più grande cioè oppure perché preso una maglietta più piccola è la stessa cosa con le scarpe del numero del piede in poche parole per cui se io ho preso un 40 e porto un 39 e perché so che poi quando mi crescerà i piedi piano piano io adesso inizierò a portare il numero 40 e non più il 39 per cui è normale che certe scarpe sono grandi ma non ho capito perché io devo dare spiegazione alle persone su queste domande assurde che mi fanno perché sinceramente io non lo capisco io poi va bene io ho risposto e poi lei mi ha detto che il piede a lei non gli cresce vabbè è alla fine dopo ho ricevuto un altro commento sotto di un'altra persona dove mi ha scritto ma anche se cresce il piede tanto vale comprarle del numero giusto da usarle in modo che si che stiano ma bene sul piede scusate ma non ci riesco a leggere fino a lì e in poche parole questo ha scritto che perché comprare le scarpe con un numero più in là se poi sta male a vedere quando cammini che poi non è vero perché molte persone lo fanno cioè cioè tu preferisci prendere un numero più piccolo che tra poco ti esce fuori il piede o prendere una scarpa più grande che il piede resta giusto non ho capito questa cosa poi ovviamente sotto di nuovo questo ha scritto beh io non giudico questo perché è anche un buon esempio fare così ma dubito che allora ma dubito che scarpe da cinque euro si possono riutilizzare tra vent'anni seppur seppur possono essere anche carine non durano in eterno nemmeno scarpe da prezzi più alti quindi tanto vale prendere il numero giusto mio modesto parere la scarpa di ginnastica ci sta perché non si nota molto e questo ragionamento ci starebbe ma i poi ho messo un emoji si vede sta male poi sul piede allora prima di tutto le scarpe da 5 euro cioè come se vai a comprare le scarpe dai cinesi in poche parole per cui o 5 o 250 milioni di euro solo per delle scarpe sinceramente vi assicuro che se comprate delle scarpe di 5 euro vi durano più di dieci anni che quelli che spendete da 500 euro da gucci per farvi capire ad esempio questa maglietta voi pensate che è vera alla marca vera invece no è fake è falsa è la maglietta falsa di gucci preso in telandia per cui io questa l'ho pagata 5 euro in telandia guardate dopo un anno è perfetta senza niente per cui fare questo ragionamento su delle scarpe solo perché costano poco 5 euro allora non durano di più io non ho capito perché questi problemi per cui poi quando ho letto tutti questi commenti in questo commento che si sono fatti problemi loro e io ho fatto un video normale dove mostravo le mie scarpe è venuto un po di ferio poi vabbè io gli ho scritto a queste due persone perché vi fate problemi e poi vabbè loro dicono no ma noi non ci facciamo nessun problema però vabbè lasciamo stare e andiamo avanti perché sinceramente non riesco a capire che problemi si fanno le persone poi poi ricevo questo commento dove ho fatto vedere i miei conigli e questo ragazzo mi scrive i conigli vanno sterilizzati per ridurre il rischio che sviluppano tumori cosa praticamente quasi certa per le femmine e per con e per consentigli di vivere insieme le femmine non sterilizzate che non hanno puntini puntini mi sembra che l'altro pezzo l'ho cancellato comunque questo commento in poche parole mi dice a me che i miei conigli vanno sterilizzati allora prima di tutto una persona fa quello che vuole e sinceramente non devi dire te a me cosa devo fare con i miei conigli io da otto anni con i miei conigli stanno di salute da dio non hanno avuto malattie non hanno avuto niente stanno veramente da dio proprio eccellenti per farvi capire mi viene questa parola qua sinceramente sterilizzare e tirare via una parte di loro no proprio no un conto se c'è veramente bisogno sterilizzare un animale ma sul fatto di queste cose che poi la gente straparla e si inventano sinceramente no i miei conigli stanno bene non hanno niente io ovviamente i miei conigli sono separati non se li metto insieme normale che fanno i cuccioli ma dato che sono separati e sono all'aria aperta dove respirano e non stanno in casa perché secondo me se stanno in casa rinchiusi è normale che non avendo aria natura è normale che si ammalano di più i miei conigli da quando sono fuori all'aperto stanno veramente bene io non capisco perché mi devi insegnare te di sterilizzare i miei conigli perché sinceramente io sta cosa non lo so per cui io il video che faccio vi faccio vedere chi i miei conigli stanno da dio non hanno mai avuto niente ma proprio niente poi anche sul fatto uno mi aveva scritto anche sul veterinario che dove di portare dal veterinario per fare le punture ma scusa ma questi sono cavoli miei cioè io non riesco a capire perché dovete dirmi voi se portare dal veterinario il mio cane o cioè ma quelli sono cavoli miei non ho capito perché si è interrotta la registrazione e credo che la memoria sta andando per cui facciamo veloce comunque ripeto non vi preoccupate i miei conigli stanno da dio non ho bisogno delle persone che mi dicono praticamente come curare se portarli dal veterinario o altre cose del genere che rimango scioccato altro commento mi sono accorta che sotto il cassetto del detersivo sia formata la ruggine come mai visto che ce l'hai due anni grazie allora il fatto della ruggine può capitare a tutti perché se un prodotto ti cade e non va bene e rovina il l'oggetto è normale che si forma la ruggine eccetera ovviamente mi è caduto un prodotto che non mi ricordo qual è e ovviamente il cassetto ha un po di ruggine però anche qua non riesco a capire che problemi avete c'è sono cavoli miei se la mia la la mia lavatrice alla ruggine poi per il fatto che a due anni sinceramente io pensavo che la lavatrice aveva due anni poi facendo il calcolo e andando a vedere il libretto giustamente la lavatrice non ha due anni ne ha di più adesso però non mi ricordo quanti per cui questo commento proprio ci sono rimasto perché ho detto ma scusa ma che problemi hai se il mio cassetto alla ruggine o non ha la ruggine o quanti anni ha io posso avere anche sbagliare c'è posso anche sbagliare diciamo quanti anni ho la lavatrice per farvi capire però vabbè poi adesso vediamo se ce ne sono altri credo di no no credo che dovrebbero essere questi se non mi sbaglio sì se ho dimenticato qualcosa poi nel prossimo video quando riceverò altri commenti cretini in poche parole faremo un altro video del genere anche perché credo che questo video è durato anche fin troppo allora voglio precisare una cosa importantissima che adesso ovviamente vi dico allora voglio parlarvi velocemente di queste mail che ho ricevuto praticamente è un ragazzo che ovviamente non metto il nome eccetera mi ha praticamente chiesto una collaborazione voglio parlare di questo perché sinceramente non non mi piace l'atteggiamento che ha avuto nei miei confronti perché io sono gentile sono brava aiuto le persone anche virtualmente ma ricevere queste mail c'è a proprio fine adesso io ve la stringo in poche parole non è che mi è piaciuta tanto per cui voglio parlare di questo velocemente per per far capire alle persone che vogliono collaborare o sponsorizzare con me o anche mandarmi un email in privato preferisco che sono edu che hanno un atteggiamento educato e non un atteggiamento brutto in poche parole allora questo questo ragazzo qua mi ha chiesto se volevo fare questa collaborazione con lui perché in poche parole mi ha detto se volevo montagli se lui voleva montare a me i video che faccio perché gli piace cioè così almeno io non sto lì a montare i miei video in poche parole c'è per stringere no e io gli ho chiesto guarda gentilmente perché adesso io posso allora quello che ho scritto io posso mettervela quello che ha scritto lui posso mettere solo la fine di quello che mi ha detto lui in poche parole perché poi altri pezzi in teoria non potrei metterli perché dato che un po privato non so se si potrebbe comunque vabbè questo è solo per spiegarvi in poche parole quando io gli ho scritto guardi io questa collaborazione non voglio farla perché a me piace montare i video voglio fare tutto io non ho bisogno di persone che mi montano i video e tantomeno c'è lo scritto in modo educato intanto meno ho già un mio amico che esperto di montaggio per cui se per caso non ce la faccio oppure devo devo avere un aiuto chiedo lui e lui mi fa tutto perché poi alla fine non ho capito se poi era diciamo a pagamento non lo so perché le cose non si fanno gratis c'è in senso che se tu vuoi lavorare perché è un lavoro montare i video ci metti tante ore se io ti do un video e tu me lo monti ovviamente io ti devo pagare perché cosa fai fai le cose gratis che sinceramente non mi conosci neanche c'è comunque quando io gli ho risposto ho ricevuto questa questa email c'è questo questa risposta qua buongiorno inizio col dire di cercare cortesemente il significato della parola collaborazione che poi neanche lui sapeva cosa vuol dire perché come vedo non è molto chiaro quando due persone collaborano mettono in competenze per raggiungere un obiettivo comunque indifferentemente dal fatto che queste due competenze riguardano lo stesso settore in questo caso lei avrebbe registrato il video con le sue competenze mentre io avrei editato il video con le mie competenze per raggiungere l'obiettivo comune ovvero il video da pubblicare su youtube quindi quindi si tratta di una collaborazione oltre questo non le piace che le persone montino video al posto suo bastava dirlo cortesemente senza essere maleducata l'ultima parola che ha scritto lui che lui mi ha scritto che io sono stata maleducata a rispondegli così sinceramente sono rimasta cioè quella parola mi è rimasta proprio non ce l'ho non l'ho retta in poche parole perché adesso vi faccio vedere cosa c'è vi faccio vedere ma vi dico anche come ho risposto io perché io sinceramente ho risposto educatamente e in più io l'ho fatto vedere anche un mio amico e lui mi ha detto che io ho risposto educatamente senza essere maleducata non sono stata male io gli ho risposto salve quelli che mi chiede non è una collaborazione perché la collaborazione è aiutare a fare un video praticamente quasi uguale e pubblicare i video sui nostri canali questa è una collaborazione quando scusate quello che mi chiede è praticamente un lavoro di montaggio video io non sono interessata perché video rimonto da sola come voglio io e non mi piace che montano altre persone al posto mio e la qualità dei video è molto buona anche il montaggio perché lui mi ha detto che la mia qualità non è buona del montaggio dei video e dei video ovviamente e se non riuscivo ho già un amico esperto del montaggio non vado a trovare altre persone dato che non voglio montare dato che voglio montare io perché mi piace e non lascio fare a nessuno il mio lavoro grazie lo stesso saluti questo è quello che ho dato in una risposta e sinceramente non sono stata maleducata sinceramente perché io ho dato una risposta sincera come come ho detto io allora la collaborazione come ho fatto io con altre persone è praticamente che io faccio un video la persona fa un video praticamente anche uguali dove collaboriamo insieme e sponsorizziamo collaboriamo con il canale in senso che io faccio pubblicità sul suo canale collaborando con lei e viceversa lui mi ha chiesto del montaggio a casa mia il fatto di montare i video e cioè montare i video in poche parole è un lavoro montare video e registrare per cui appunto dicevo sinceramente quello che mi ha chiesto lui è un lavoro non è una collaborazione montare i video per cui volevo precisare questo che quando voi mi scrivete qualcosa collaborare o qualcosa qualunque cosa io sono educata rispondo giusto ma quando voi mi dite che io sono maleducata e ho risposto male a voi c'è io questa cosa non la reggo perché io posso aiutare le persone ma poi quando ricevo questi queste mail o anche commenti sotto lo scritto ma sei maleducata oppure altre parole che va beh adesso non mi ricordo perché non ricevuto altri di parole un po brutte sinceramente non mi piace l'atteggiamento che ha avuto questo ragazzo perché io gli ho risposto giusto a me piace montare piace fare quello che voglio per cui e poi per il fatto della qualità dei video è eccellente perché io sto registrando con l'iphone 11 cioè non è che sto registrando con l'iphone 6 c'è il mio cellulare è una bomba la qualità è ottima cioè non ho capito anche perché deve dirmi lui la qualità eccetera ma c'è su un cavoli mie c'è chi registra i video con una macchina fotografica che è vecchia come mia nonna per farvi capire per cui c'è comunque volevo farvi volevo farvi leggere questa lettera ovviamente alla fine perché all'inizio non ve la posso far leggere dato che un po privato però volevo chiarire questa cosa che io vi rispondo già tanto che ho risposto a questo ragazzo educatamente ma poi riceve solo perché se la presa che io gli ho detto di no allora ma mi ha detto io sono maleducata sinceramente ci sono rimasta spero che questo non è durato tanto perché i commenti erano tanti comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi e se volete un'altra puntata di questi commenti sul ovviamente se ci saranno sul mio canale detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video perché questo video di sicuro sarà durato un eterno scusate come sempre ma volevo appunto precisare e farvi leggere questi commenti o dirvi quello che penso o e tantomeno dirvi che se volete parlare con me dovete essere educati come sono io che rispondo sempre che già tanto che certe volte rispondo ai commenti che non meritano neanche una mia risposta detto questo mi sono anche un po sfogata con voi specialmente con quelli che mi seguono per cui grazie mille quelli che mi seguono veramente detto questo noi ci vediamo al prossimo video scusate se il video è durato l'eternità al prossimo video ciao